Ciao a tutti ragazzi, io sono Gianni degli AGD e benvenuti, bentornati ancora una volta sul nostro canale. Siamo oggi qui con Day of the Tentacle. Ci sto giocando perché è uscito qualche giorno fa gratis su PlayStation 4 e dato che non l'ho giocato quando uscì tantissimo tempo fa e tutti ne parlano bene, ho deciso di portarlo oggi sul canale. Fatemi sapere qui sotto nei commenti grazie a un like e magari a qualche commento se l'avete giocato, se vi è piaciuto e soprattutto se volete che questo video diventi una vera e propria serie. Senza dilungarmi troppo, non so perché ho fatto questa pausa incredibile, senza dilungarmi troppo dire di partire subito con il gioco. Io l'ho avviato giusto per vedere l'opzione del commento degli sviluppatori, se era meglio metterlo o meno, non è meglio metterlo, quindi salveremo automaticamente, vuoi davvero cominciare una nuova partita? Sì, vuoi attivare il commento degli sviluppatori? No. Ragazzi, se vedete che in qualche punto ovviamente faccio silenzio e perseguire bene la storia assieme a voi. LucasArs. Ars, perché è uscito Ars e non Ars? Eccoci, pesce che ride. Ah, una bella atmosfera, bene. Un uccello un po' con gli occhi strabici, ma va bene anche questo. Ok. A qua c'è una parte di città abbastanza malmessa, infatti è morto. È morto così. Cioè, i tre uccelli rossi sono passati, il leone. Che cazzo sta succedendo? Ah, giusto, il giorno del tentacolo. Sono assetato, è bene. Giustamente dalla parte inquinata della città. Bravo. No, lui se ne frega, è un H. Ok. Mi fa sentire fantastico. Che intelligente. Mi sento come se potessi... Mi viene da ridere, non lo so perché. Se potessi... Che sta succedendo? Come se potessi... Le mani? Tutto qui. Questo è finito, la storia. Conquistare il mondo, così a caso, random. Perché lì sono apparse le mani, va bene. Din-don, suonano alla porta. Un criceto. Alla porta. Che suona. Ok. No. No. Come per il complesso. Potremmo decapitare. Oddio mio, no. Ti prego. È un tuo amico, Bernard. Vabbè. Vediamo cosa c'è scritto sul biglietto, ragazzi. E l'ha lasciato fuori, poverino. Vieni al mio vecchio... Allora, il suo vecchio amico, rosa. No, rosa, sto dicendo, verde. Oh mio Dio, lei terrorizzata. Praticamente gli ha detto che è impazzito il tentacolo viola che vuole conquistare il mondo. E dei pazzi Edison. Che devo? Voglio proprio vedere cosa dice. Tornare. Tutto qui. Tornare alla villa. Oh, c'è il... C'è la sigla. Che mi dispiace, ma... Più che altro salterò perché non so quanto possa durare una sigla, quindi... Mi dispiace, ragazzi, perché se dura tanto, un po'... Per problemi di copyright, ecco. Allora, la Vern deve andare nella porta più grande. E Hoaghi... Non ho capito. Cosa stiamo cercando? Ebbè... Dobbiamo scoprire dove il Dottor Fred tiene tentavoli. Però non ci vorrà molto. Come? Lei mi inquieta. No, non ti preoccupare. Se faccio tardi non potrò provare la batteria. Allora, tiene i tentacoli legati nel suo laboratorio segreto. La domanda è... Dove si trova il laboratorio segreto? Beh, scopriamolo insieme. Allora, i comandi. Scorri l'inventario con R1 e L1 e apri l'inventario con triangolo. Annulla, salta con cerchio. Interagisci con quadrato. Vai verso. Conferma X. Cambia personaggio con le frecce sinistra-destra. Su per evidenziare gli oggetti. È il commento degli sviluppatori giù. Ma, sinceramente, sono molto invasivi. Quindi... Non lo utilizzerò. Ok. Va bene. Eccoci qua, ragazzi. È un punto e clic, giustamente. È un'avventura grafica. Allora, il vomito finito. Apri vomito finito. Apri. Non ci arrivo là su, giusto. Però voglio esaminarlo. Come ha fatto quello ad arrivare là su, giusto? La pianta Chuck. C'è una pianta che si chiama Chuck. Va bene. Un orrore. Oddio mio, poverino. Non posso toccarla. Le spine. Va bene. L'espositore di foglie. Esamina l'espositore. Ok. Raccoglio il foglio. Oh. Cosa abbiamo raccog... C'è un libro? Che che libro è? Che che libro è? Ok. Non ho idea di quello che abbia detto. Roba ascoltante. Ok. Mi basta questo. Vediamo. Viene dalla ferramenta di George. George dice che ogni buon americano potrebbe avere un aspirapolvere in cantina. Ok. Una gomma con la monetina. Raccog... No. Perché l'ha annullato? Raccogli. Allora. Ah, ecco. Così si evidenzano gli oggetti. È incollata al pavimento. Va bene. Il ritratto. Ehm... Prendi. Potrebbe essere una trappola addirittura. Che cos'è? È firmato. Ecco il suo prestito. Io, papà. Va avanti così. Saluti dalla mamma. Va bene. Suoniamo il campanello di servizio, ragazzi. Ehm... Ehm... Va bene. Niente. È fissato sulla porta. Ok. Andiamo nell'ufficio. C'è un orologio. E c'è un telefono. E delle scale. Andiamo prima in questo ufficio qui. Allora, allora. C'è il salvataggio. Vediamo un po'. Allora. La porta. Gli oggetti in evidenza. Credo di non utilizzarli. È un aiuto un po' invasivo. Quindi... Andiamo un attimo al calendario di... Di come si chiama? Dark Fenn. Io ho già tre a casa. Va bene. Non lo prende. Tira. Meglio non toccare. Ok. Usa. Sarà meglio non toccare. Va bene, dai. Cassetto. Com'è chiuso? Oddio. Non ci credo. C'è del correttore dentro. Bubu non c'è più. Raccogliamo il correttore per quanto possa servire. Cerchiamo un... Allora, innanzitutto cos'è che dovevamo fare? Ah, dovevamo trovare il passaggio segreto. Raccogli il libretto bancario svizzero. Ok. Il telefono, il ritratto, la foto di famiglia. Mamma mia, Edison. Sono una famiglia spettacolarmente brutta. Il ritratto. Oddio, si può aprire? Si può aprire il ritratto? Cosa c'è? Oh, bonjour. Apri la casa forte giustamente non si aprirà. Non conosco la combinazione, giusto? Il telefono, non credo sia rilevante. Il telefono... Oh, il decino. Raccogli il decino. Oh, monetina. Bene. Prima di salire sulle scale, vediamo un attimo l'orologio. Si può esaminare o aprire? Allora, ogni cosa che si può aprire, penso, serva a qualcosa. Infatti, un passaggio segreto. È tutto così facile. Hop. Ebbene, che gag all'americana, diciamo. Allora, Huggy. Mi sta andando sopra, giusto? Lei che cazzo sta facendo qua? Scusate. Io su? Oddio, questa va fumata. Che cos'è un tentacolo? Bene, bene. Lei sta proprio uccisa. Solo qualcosa che ho inventato. Chi è? Lì è il dottore. Di sono il dottor Fred. Giusto. Praticamente ha legato i due tentacoli finché... Perché è uno dei due e voleva conquistare il mondo. Ed è in cantina. Giustamente si è sputtanato il passaggio segreto. Vabbè. Grazie a te non siete tanto stupidi. Hai detto Bernard. Ok. Sappiamo che è stupido. Infatti, li ha liberati. Bene. Siete liberi di andare. Grazie Bernard. Sì, grazie. Grazie, naiv. No, adesso posso finire di conquistare il mondo. Adesso posso finire di conquistare il mondo. Finire di conquistare il mondo. Addirittura. Oddio, che cos'è sto gioco. Che memoria di ferro. Cercherò di convincerlo a non farlo. Vai. Vai, tentacolo verde. Mi fido di te. Click. Oh, cazzo. Dottor Fred, buongiorno. È libero di usare i suoi malvagi poteri. Non ho idea di che poteri abbia sto tizio. Ridurre in schiavitù l'umanità. Addirittura. La mia macchina melmomatic. Melmomatic. È un po' tardi per prevenire. Ma scusa, lui ha una macchina con cui ha inquinato, penso, il fiume. Ah, ho capito. Praticamente vuole tornare a ieri quando i tentacoli hanno cercato di conquistare il mondo, diciamo così. Non puoi semplicemente guardare Bernard. Visto che ha fatto cazzate lui. E' mai fatto male qualcuno? No, no, è giusto. Ne faccio le squemvolte. Però ha funzionato. Eccoci. Ah, addirittura con tutta la macchina del tempo. Passa da queste parti così posso picchiare. Woodstock. Non ho idea di quello che sta succedendo. Il gatto. Chi è quella tizia? Chi è quella tizia? Oddio, è inquietante. È inquietante. Questo gioco... Spero vivamente che vi possa piacere. O che vi stia piacendo. E spero vivamente che vogliate che continui questa serie. Dopotutto è un medico, no? No. Non è un medico. È un medico, questo gioco. E avevano detto che un diamante finto non era abbastanza buono. Bene. Infatti non è buono. Mi dispiace. Chissà dove stanno andando. Che stupido sto tizio. Huggy. Huggy. Oddio, la ragazza non ricordo come si chiama. Ok. Chi ha tirato qui? Huggy. Ok. La tizia, sì. Giusto, la tizia. E vabbè, è un culo aperto. Scusate. Bernard, cioè... È lui che ha fatto il danno. Gli ha liberati. Però gli altri chissà dove sono finiti. E lui è tornato qui. Gioielli a Bastocosta. Ah, Laverne. È un nome brutto. I miei quadranti dicono che l'esemplare più grande, Huggy, è atterrato 200 anni indietro. E l'altro? E l'altro? E l'altra? Lo farò, non appena avrò un diamante nuovo. Allora, i miei nostri amici devono inserire la spina nel loro cronobinetti. Ora, dove ho messo i piani della mia superbatteria? Perché giustamente, scusa, se Huggy è sceso... E infatti, come faremo a inviare così a Huggy? Non infastidirmi con i dettagli, ragazzi. Aiutami a trovare i piani. Stavo dicendo, se Huggy è atterrato 200 anni fa, come fa a trovare una presa elettrica, no? Vediamo, vediamo. Cosa dobbiamo fare? Troviamo i piani. Ecco, l'obiettivo di oggi. Salvare il mondo, giusto. Uscire da casa mia. Bene. Non so quanto possa durare, sinceramente, questo gioco. Ti prego, fammi giocare, dai. Penso mi faccia giocare, giusto? Ok. Il cronobinetto. Allora, la macchina del tempo... Non credo serva a qualcosa. Ci ha detto di trovare delle attrezze... Come, i piani? Forse sono di sopra i piani. Qualcosa mi dice che non sono sopra. Non ho idea, perché mi è andato troppo convinto per la leva. Cosa fa? È l'interruttore. Spegnilo. Eh, qua è spento. Ma è troppo tardi adesso. È giusto, ok. Praticamente con questo aggeggio hanno inquinato il... Oh, un foglio di carta. Che cos'è? Che cos'è? Oh, i piani. Oddio. Già, già trovati. Come hai fatto ad arrivare la... Giusto. Scusa, hai salito le scale, tu, tizio. Ingegnoso piano. Boh, così. Nello scarico. Sì? Giù per il gabinetto. No. Lui è inquietante. Ha un... Non so che è inquietante questo tizio. Andare giù per lo scarico piccoli oggetti animati attraverso il tempo. Salve. Salve. Ma ho parlato laverne. Vediamo come si chiama. Ugi, sarebbe come si chiama. Sono bloccato nell'area coloniale. Il tentato li vogliono conquistare al mondo e adesso il gabinetto rigursito. Ogi, venite qui. È il tuo vecchio padre, Dr. Fred. Dr. Fred, come ti arrivai in là? Giusto. Voglio prendere i plani che tu vedi nel cronogion, Ogi. Tra i plani a Red Edison. Red Edison. Il mio bis, 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 bis. Ha saltato un bis, no. Ha delle esperienze con l'elettronica. Una volta l'ho visto prendere la scossa da 3000 volt direttamente alla testa senza battere i cini. Bene, così. Mamma mia, in che mani siamo, ragazzi? Wow. Ah, ho un apriscatole, eh? Perché? Ho un apriscatole. Accipicchia, ok. Allora, possiamo passare a Bernard? E anche la tua amica del futuro ha bisogno di un energy. Viva. Ok. Ok, ragazzi. Io direi di passare a Hoogie. Vediamo un po' cosa può fare il tizio. Apriamo. Sembra chiusa a chiave, ok. Sembra chiusa a chiave, ok. Ah, il gabinetto cosa possiamo fare? Ma come siamo nel gabinetto? Allora, raccogli il... Non c'è niente da prendere. Usa. Oddio, e se per caso... No, no, ma non credo abbia molto senso. No, no. Allora, di qua... Oh, il campo. Vediamo niente, ok. Semplicemente c'è una visione un po' più larga su lì. Le insegna. Cosa dice? Come il caco. Cioè, è un caso. Che vicino ai gabinetti ci sia un caco? Vabbè. Andiamo per il sentiero, ragazzi. C'è una casa. L'osteria. Andiamo all'osteria. Vediamo. Abbiamo ancora un po' di tempo. Sì, vi faccio vedere qualcos'altro. Il carro è l'unico oggetto che si può evidenziare qui. Vediamo un po'. È tutto coperto di sporcizia. Ok, non credo serva molto, no, infatti. Andiamo di qua. Si può? Sì. No, 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 aspetta. Ecco, infatti. C'è una cassetta della posta che... Delle lettere. Ma meno vale. Apri. La lettera. Prendi la lettera. Vediamo un po' la lettera. Come si faceva? Esamina. Sei brillante. Che disegno innovativo. Vieni a Baltimore. Subito. Ok. La bandierina della posta. Raccogli la bandierina. Ma che... Che cazzo è? Il ponier... Oddio. L'ha detto... L'ha detto seriamente. Io non voglio andare a vedere dove sia finito il ponier. Cerchiamo di entrare qui. Apri la porta. Aperto, sì. Nel frattempo... Che succede nel frattempo? Che ne dici di un emandamento che il presidente deve essere... Ma... In che senso? Please, this is serious business. Che... Che voce ha? You're right. Stop. Questo... Sta succedendo nel frattempo. Ok. C'è una mummia. Una porta della main hall. Parla con la mummia. What's up? Don't feel like talking, huh? Without silence or something, probably right. Stop. Ho qualcosa per Red... Che meraviglioso cappello, amico. Apriottate. Sì, ma infatti è inutile parlarci. Allora, c'è la main hall. Direi di entrarci. La cassetta dei suggerimenti. Aspetta. Ho premuto giù, giusto per vedere se c'era qualche... Suggerimento dei creatori del gioco, ma... Non funzionò più, ormai l'abbiamo disattivato. Il rilevatore di fumo, anche chiamato comunemente canarino. John Hancock. La cassetta dei suggerimenti. Che c'è? È serrata. Il caminetto. Usa il caminetto. Dove sta andando? Ma non volevo fare niente del genere, ragazzi. Dove va? Beh. Un po' di difficoltà il tizio. No, allora. Io non voglio... Infatti, non voglio strafare nel... Nel cercare zone lontane. Voglio rimanere un po' in zona. Vediamo un attimo di parlare con Geno. Con John Hancock. Ciao. Che c'è? È freddo. What's up, you cool? I'm freezing. Perché non accende il fuoco, giustamente? Perché non ti prendi un caffè caldo? Perché non ti prendi un caffè caldo? Non c'era quel levo, sì? Perché non ti metti un cappotto? Perché... Perché non accende il fuoco? Giusto. Ma non vuole. Dice che gli serve il ceppo per i posteri, non vuole darlo. Donerà il ceppo ai bambini bisognosi? Cioè, come un simbolo di crescita o qualcosa del genere? Chi vorrebbe un poster di un ceppo? Non lo sto seguendo. Cosa fate voi qui dentro? Stiamo scrivendo una costituzione per gli Stati Uniti? Al sol pensiero, ora brividisco. Vabbè. Perchè ti prendi un caffè caldo? Non lo rego il caffè. Eh, ti capisco, amico. Vabbè. Dovrei proprio andare. Penso sia inutile. Lui sente freddo. Dovrei trovare il modo di... Ah, infatti, il ceppo è qui. Prendi il ceppo. Prendilo adesso, maledetto. Lo sto conservando. George Washington, ma dai. Aspetta, ragazzi, mentre guardavo George Washington, non ho capito cosa dice. Diventerà un ceppo famoso. La Costituzione. Aspetta, cosa ce l'ho più? Il pennino d'oca... Eh, là. Eh, vabbè, ma ha rotto le palle sto tio. La capsula del tempo. Proprietà del governo che abbiamo portato forse con... Oddio. George Washington. Ciao. E assomiglia a George Washington. Grande. Un plauso. Molto... Così mi dice mia moglie. Wow, terrificante. Mi chiamo Uli. Lo sa la signora Washington... Lo sa la signora Washington che ti trucche cose? Mi ne toccassi se riceve tanta attenzione dai media come faccio io. Sono un grande fan dell'istruzione. Credo che l'ecologia sia molto importante. Dipende da quanti ciliegi hai tagliato. No, non sto capendo. Va bene. In verità sono molto abile come tagliaboschi. Mi daresti una dimostrazione? Eh, infatti... Magari... Ehm... Cioè, se ci dà una dimostrazione su tagliare la legna, potrei avere un altro ceppo... Per accendere il fuoco a... Eh, come si chiamava? Mi daresti una... Per me non ce la fai. Non potresti tagliare un albero per salvare tu... Ok. Ma come vedi... Cioè... Taglio soltanto i ciliegi. È giusto, e qui ci sono solo i cachi. Ehm... La priscatola non credo possa servire a molto qui adesso. Io direi ragazzi che come primo episodio, come episodio pilota, può bastare. Possiamo fermarci qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, se volete, che questo, come ho già detto prima, non sia solo un video, ma l'inizio di una nuova serie da portare sul canale. Io spero vivamente che questo video, che questo gioco vi stia piacendo, a me tantissimo. Come sempre vi invitiamo a lasciare un like, un commento, iscrivetevi alla nostra pagina Facebook, iscrivetevi al nostro canale su YouTube, se non siete ancora iscritti, per ricevere tutte le novità sui video, eccetera, eccetera. Veramente grazie di cuore per aver guardato questo video, salute. Direi di stoppare qui il video, noi ci vediamo nella prossima, si spera, parte di questo gioco. Ciao ragazzi!